Un'Atalanta in attesa, atteso il Genoa in quanto doveva confermare la bella prestazione, anche se prestazione negativa, di Milano domenica scorsa contro l'Inter. Un'Atalanta che si faceva più forte e oggi forte non ha dimostrato di essere. Ma perché? Perché il Genoa oggi ha giocato molto bene, ha chiuso tutti gli sbocchi, ha giocato in attacco in maniera ariosa, in maniera molto classica e quindi ha impedito all'Atalanta in pratica di impensierire il proprio portiere Braglia. Un risultato quindi un 2-0 classico, un 2-0 che è assolutamente positivo, un 2-0 sul quale non si può dire assolutamente niente. Una annotazione, l'arbitro Guidi di Bologna, un'ottima partita. Ma possono partire le immagini che ci confermano. Ecco, un primo piano di Braglia, come abbiamo detto, quasi mai impensierito dagli attaccanti nerazzurri ed è il Genoa che va subito in attacco a Ghilera. Eranio, molto bravo questo nuovo azzurro, guardate come avvia in slalom e come Ferron deve esaltarsi per deviare. Poi Ferron protesta con i suoi signorini e qui su questo colpo di testa c'è un fallo di contratto su Aghilera che però l'arbitro Guidi non ravisa. Ed ora l'Atalanta in avanti, un tiro che impensierisce Braglia, ma fino a un certo punto Braglia va molto bene. Poi c'è questa espulsione di Canigia, l'espulsione è venuta verso la fine della partita che vi facciamo vedere. Canigia aveva protestato dopo un fallo su Eranio. Il Genoa che va ancora in avanti con Onorati. E Onorati, ecco, lo vedete, porta il Genoa in vantaggio ed è il 22esimo minuto del primo tempo. Poi Scuravia, al 31esimo, l'applicazione di questo bravissimo centravanti cieco-slovacco che si sta rivelando in questo campionato italiano è a tutto suo merito per l'attenzione che pone sempre in tutte le azioni. L'Atalanta prova a spingere, prova ad impensierire il Genoa ma il Genoa che va via in contropiede. Ancora Scuravia è una buona occasione ma il suo esterno-sinistro Pugger poi ancora Scuravia con Ferron che ribatte e poi Aghilera che riprende e coglie un palo esterno però alla rete. Ancora il Genoa in avanti, Fiorin qui che è entrato nel secondo tempo la rovesciata di Aghilera, la traversa di Aghilera.